Ciao da Mr. Così è giusto per chi è pigro e non ha voluto leggere il pezzo. Intanto rispondiamo subito alla domanda. E da Mondiale sì, 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 adesso sì. Nella gara amarissima in cui Rins, Suzuki, porta a casa una vittoria, ad una casa che non ci sarà più. Pecco Bagnaia riporta a Ducati il titolo mondiale piloti dopo che avevano vinto quello team, quello costruttori e quello anche come best independent rider dopo 15 anni e con una combo pilota-moto italiana che non c'era da tantissimo tempo. 48 anni, 50 per la cabala, poi adesso vediamo bene. Insomma, gara orrenda, ma finale che più giusto non si può. Rins, Binder, Martin, Quartararo, Oliveira, Mir, Marini, Bastenini, Bagnaia e Morvidelli a chiudere i 10. Ma adesso almeno abbiamo una risposta alla domanda di tanti lunedì. È da Mondiale? Sì, il pacchetto pilota-moto è da Mondiale, poi qualcuno discute su altri dettagli, però la verità è che Bagnaia il titolo lo ha vinto e se lo è meritato. La gara, lo diciamo subito, è al limite dell'orrendo con una serie che sembra infinita di erroracci, va fuori un sacco di gente, è cadute. Ma se ci fosse una giustizia motociclistica, ve lo dico, sarebbe questa. Cioè ha vinto chi doveva vincere. Sia la gara che il titolo. Perché Rins porta a casa una vittoria meritata che fa pentire Suzuki del ritiro, ammesso che i giapponesi siano tipi da pentirsi e abbiano questi rimorsi davanti alle ragioni industriali e poi Bagnaia, che per quanto oggi sarebbe stato più difficile perderlo il titolo che vincerlo, porta a casa un Mondiale facendo capire che è suo di diritto per i punti recuperati. E sono 114, 1-1-4, 114 recuperati. È lo strapotere dimostrato nelle ultime gare nei confronti dei suoi avversari diretti e di tutte le combo dei bookmaker che lo vedevano irrimediabilmente perduto a metà stagione. Allora, Masetti 1952, Libero Liberati, Gilera 1957, Agostini 72, con MV Augusta e Bagnaia 2002. Io inizialmente avevo scritto in realtà Masetti ma perché cabalisticamente veniva 52, 72, 2000, 2002. Però in realtà l'Italian Job è Liberati, Libro Liberati su Gilera del 57, Agostini a MV Augusta del 72, Bagnaia nel 2002. Quindi il pacchetto di Italian Job, pacchetto pilota italiano, moto italiana. Poi ci sono stati Lucchinelli a vincere, Uncini a vincere, Rossi a stravincere in classe regina. Però questo è un risultato particolare perché restituisce a Bologna il premio per un lavoro che l'ha portata ad essere indiscutibilmente l'azienda, parlo di Ducati, che ha messo in pista le moto migliori dell'otto. C'è chi dice che Bagnaia non è il più forte di tutti i suoi colleghi. Forse ha ragione. C'è chi dice che è stato aiutato in pista da certe situazioni. Forse ha ragione. C'è chi dice che il Mondiale lo ha perso Quartararo. Qui ha un po' più ragione. Ma in realtà ha ragione ancora di più se dice che lo ha perso la Yamaha. Però non è questo quello che conta. Quello che conta è che l'uomo giusto, sulla moto giusta, al momento giusto, ha fatto le cose giuste, perlomeno da metà stagione in poi. O meglio, quando serve, quando è servito. E quindi niente, niente può togliere a Bagnaia un titolo vinto così. Ammesso che un titolo valga più di un altro, perché c'è anche chi discute che Mir ha vinto un campionato un po' così. Ma allora anche Aiden, anche Robert, anche Crivillet, anche questi hanno vinto. E allora c'è chi dice no, ma ci sono piloti più forti che non l'hanno vinto, Capirossi, Biaggi. Ho capito, ragazzi. Però un mondiale vale un mondiale. Ok? Un fighter, un combattente, io paragono sempre i piloti e i combattenti, può prendere cazzotti e calci fino all'ultimo round. Poi se però mette capo al suo avversario, negli ultimi due round, o vince ai punti perché le prime cinque riprese e prende le botte, ma le altre sette, se sono dodici, le botte le dà, e conta quello. Pecco Bagnai ha avuto un crescendo assoluto, al di là del fatto che Yamaha abbia vissuto un dramma tecnico che ne ha creato un altro umano. Cioè, il dramma di Quartararo è stato, secondo me, creato più che da se stesso, da Yamaha. Ok? Quartararo è stato ucciso da Yamaha. Ok, adesso un messaggio per gli hater, cioè i negazionisti, quelli che vedono un titolo non meritato. Io sono un grandissimo critico di Ducati, e di tutti in realtà, quando le cose vanno in un certo modo, ma sono anche il primo che riconosce i risultati. I risultati, chi vince ha sempre ragione. E chi vince, in qualsiasi modo vinca, non se ne vergogna mai, ma non è questo il caso. Quello che è da rimarcare è un aspetto duplice, cioè abbiamo subito un'informazione indecente, che per di più è anche legata ad un prodotto, al marketing, ad un aspetto commerciale, e non dell'informazione motociclistica, non solo dalla televisione, ma anche da tutti i giornali che volevano questo titolo, ma molto più grave, un'informazione che si è autoconvinta di essere stata bilanciata. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che abbiamo assistito a dei factory games, factory deals, giochi di marca, che non sono giochi di team e giochi di squadra. Sono una cosa diversa. E sono stati prima negati e poi dichiarati ammissibili e poi addirittura dichiarati necessari, giusti. Abbiamo visto l'indecenza plateale di tantissimi comportamenti in pit lane, ma la cosa più brutta è che questi siano stati negati. Cioè, non è vero che sono accaduti, ci hanno detto, siete voi che siete matti. Ma questo no. Allora, ripeto, ci hanno urinato in testa dicendo che pioveva. Non va bene. Cioè, ma la cosa proprio più grave del grave del grave del grave del grave è che praticamente questi comportamenti, al di là di qualche piccolo dettaglio, deprecabili, criticabili, cioè quello dell'informazione, quello dei factory games, quelli dei factory deals e quelli degli adjustment, degli aggiustamenti, hanno avuto un'influenza sul titolo di Bagnaia veramente quasi impercettibile. Cioè, non potete negare, ok, forse 10 punti, 15, ma non potete negare che ci sia stato un recupero mostruoso e che Bagnaia non abbia annullato il suo avversario all'ultimo momento. Cioè, pecco Bagnaia da Torino è campione del mondo e avrebbe vinto comunque. per cui messaggio per tutti, hater, siete inutili, tifosi, fanboys, talebani, siete inutili, marchettari dell'informazione, siete inutili e tutti quelli che hanno cercato di forzare il gioco facendoli giochi di squadra, giochi di team, giochi di factory, giochi di marca, siete ininfluenti. Avevate già fatto la moto perfetta, non serviva andare oltre. Questa è la mia opinione. Ci vediamo per le pagelle, per le page live, che sono dei giochi che noi facciamo, ma sappiate che Bagnaia questo mondiale l'ha vinto forse con un aiutino ma che non gli sarebbe non gli sarebbe mai servito. Non so cosa ne pensate. Ciao a tutti da Mr. Helmet. Ciao a tutti.